Il piano era partire alle 9 e sono le 12 e mezza. Situazione attuale? Così, i profughi proprio. Abbiamo la sella fresh e la sella trash. Il cadappo inizia un nuovo viaggio, una nuova avventura a Bordo del Fazerone. A Val di Susa regala sempre emozioni, benzina 1,76. Ma questa volta non sono solo, sono con la mia biondina zamorrina che per la prima volta sopporterà un viaggio di oppe 3.500 km e io dovrò sopportare lei. Com'è? Il culetto come va? Per sconfinare ho scelto di attraversare il valico del Mont Cenisio. Guardate come si chiama questo posto, Termignon, qua fanno i Termignoni della Ducati. Ci permette di passare dai 35 gradi che c'erano in Italia ad appena 25 in Francia. L'apprezza promette bene e quella sensazione di fuga estiva inizia ad attraversare il corpo e l'anima. Direi che siamo pronti e carichi per arrivare in Inghilterra. Siamo arrivati a Grenoble. Perché mi ritrovo sempre a spingere i letti io? Chapeau! Lavora, donna. Bello! Pure il comitino, poi! Vediamo la vista sulla mer. Invece sulla mer. Scusate, Vania è nuda, così non la vedrete. Oh, apposta. Primo viaggio serio in moto. Che faccio con questo individuo qua? Primo viaggio insieme. Chapeau! Quanti chilometri faremo? Non si sa. Oggi siamo arrivati a 400 e rotti. Dovremmo arrivare più o meno ai... Rotti, io... Tu cosa hai? Prendiamo anche qua gli scooter per simulare fa... No, non posso dire. No, non posso dire. No, non posso dire. Piccola Vania la portiamo a scuola. Possi mi dovevi dare il cappellino per il sole. Che hai perso, tra l'altro. Pesso... Guarda. Il ca... Avete presente il video di Caponord più di 635 mila views? Mi volerà anche il cappello. Quel cappellino me l'ha perso oggi in autostrada. L'ho fatto, apposta. Se fate l'A4 probabilmente troverete un cappellino... Oltre alla targa. L'abbiamo perso la targa. E alla moto persa, le chiavi. Basta che non mi voli te col vento adesso. Questi sono tutti i castelli dove io vivevo quando ero. Quando era una principessa. Siamo finiti in un ristorante italiano. Il primo giorno... È andato. Direi. Già. Gatto. Buongiorno. Oggi 1.69 Non ce la possono fare. Mentre si è un bel prato... Eh? Con il nostro asciugamanino e io finisco di leggere il mio libricino. E io che cazzo faccio? Non lo so, non è in hobby. Volevo farvi vedere un paio di tecnologia all'avanguardia che abbiamo studiato io e Vania per la produzione poi massiva. Allora tecnologia fascetta tech, tecnologia all'avanguardia per ancorare le borse laterali e poi abbiamo la tecnologia cuscino tech per frenare la propria zavorrina. Chi dormirà tutto il pomeriggio in moto? L'alcolizzata che ha preso la birra. Pochi minuti fa le ho detto Vania stiamo leggeri perché abbiamo ancora da fare 500 km e questa è la nostra leggerezza. Siamo in Borgogna. Ci facciamo due spaghetti con la borgognese. Ragazzi siamo a Borg e adesso birretta per essere arrivati. Anche oggi 450 km. Chapeau! Finalmente un'attrazione che può interessare a Vania. Guardate dove l'ho portata. A ritorno possiamo passare da Amsterdam e ci possiamo fare un negozio con noi. Chapeau! Prosecco? Prosecco. Prosecco l'ha capito dopo cinque volte. Sì, quando io ho urlato Mula Kitten l'ho raccapito. Le vent con le boule, le vent con le boule, le boule, le boule, le boule, le boule. Solo per questa scena dovete iscrivervi al canale. Sono belli, sono come sono brutta. Già, è già, tanta roba. Come i peruviani in metropolitana. È verde. Cos'è, il tè? È tutto il sole là! No, Fazer in vista con la luna piena e questa è la nostra stanza. Francesca! Ma puoi imparare di no? Buongiorno! Fazerone c'è ancora. Ci accingiamo ad uscire e iniziare il nostro terzo giorno qua in Francia. Sei pronta ad altri 1200 km? Ci troviamo nel nulla. Ci troviamo. Abbiamo trovato queste pompe. La benzina 203. Ma non potevamo fare diversamente. Da Giangerin, vi comunico, abbiamo raggiunto col Fazerone 130.000 km. Cometterò l'applauso, tipo. Cioè, guardate quest'albero, quanto è grosso. Ci sono i rami che partono di qua. Tiretti su con dei tiranti. Ci troviamo, dov'è che siamo? A Blois. Blois, Blois, Blois. Una bionda con la bionda. Oggi un piatto tipico del posto, la lasagna. Chapeau. Contro ogni pronostico, la lasagna è buona. C'è un sacco di emmental. Hanno usato i baffi? Si, sa di calli. Allora, se qualcuno si chiede come facciamo a organizzare i pernotti, ci stendiamo su un prato e Vania sceglie l'hotel. Spesa fatta. Qui abbiamo tutto l'occorrente per sopravvivere a questa serata. Ne vi faremo vedere poi. Ora però non ci sta più questo telo. Vania, oggi avrai la sella comfort. Ciao Sabino. Allora, voi vi chiederete, ma cos'è che fate quando non guidate? Sputiamo giù. Ricollegandoci con il video che avevo fatto sul Po, anche la loira è un po' in secca. Quindi il Po è un loira in secca. Si, ma la loira è un po' in secca. È un po' in secca. Chapeau. A dimostrazione di questo fatto, lì c'è una clessidra, insomma, un misurino. E ogni annata c'è, però non si vedrà mai in questa ripresa. Comunque nel 1856 era arrivato lì in fondo. Qua tutto pieno. Poi sempre meno, sempre meno, sempre meno. E adesso sta sputazza qua. 1835, 1900, 1370. Quindi nella storia cosa ci insegna? Che ci sono sempre degli alti e bassi. Alti e bassi. Quindi in realtà, anche se ora il Po è in secca, ci sarà un giorno in questo. La loira è questa. No, no, mi ha detto che era un po' di loira. Ah, un po' lì. Andiamo a bere, dai. Allora, siamo nel centro di Tours. E ci sono le case montate storte come in Olanda. Vedi che vanno verso in giù. Sai perché? Perché? Voi lo sapete? Perché praticamente il significato in Olanda è che per fare i traslochi loro usavano una corda lì con un cestello. Quindi se la case era dritta, il cestello faceva boom, boom, boom. E la campanella così. Già. Soffro di vertigini anch'io. Oggi lo faremo. Già. Wow. Guardate come fa. Però, smetti. Francesco. Abbiamo completato il primo giro di 17. Sembra la mattina di una notte da leoni. Buongiorno. Quarto giorno. E comunque, volevo dire una roba a riguardo dei cartelli blu e quelli verdi. Praticamente, sono al contrario. Quelli verdi sono le statali. Quelli blu sono le autostrade. Secondo me è fatto apposta perché così gli italiani pensano che il blu è la statale e poi prendono l'autostrada. Abbiamo un problema. Allora, stiamo andando a Mont Saint-Michel. Però la tattica del prenotiamo last minute per la prima volta nella mia vita non funzionerà perché ci sono solo tre hotel. 500, 509, 962. Questo costa 6.000. Hai portato 6.000 euro tu. Niente, andremo lì, faremo un giro e poi ci allontaneremo di un'oretta per il primo hotel accessibile. Mi usa come bastone per i selfie. Normandia è come l'Africa. In mezzi lì ogni 300 km. Stavolta abbiamo beccato la benzina Saint-Splomb a 1,75. In diretta da questo mulino a vento, di qua c'è anche quella montagnetta, vedete, che è Mont Saint-Michel. Dopo 1.300 km siamo qua. Vediamo quanti abbiamo fatti. Lui lo sa. Che? Dignelo. 1.300. Vania è stata bravissima. Primo viaggio per lei come zavorrina. Come ci siamo organizzati? Così, proprio all'asperindio. Ci sono due borse givi fascettate. Allora, per avere la pedana libera, le abbiamo messe qua. Questo è un sistema di chiusura fascetta delle due cerniere per questioni di sicurezza. Vania mi ha fatto notare che anche se sono chiuse basta fare così. Anzi, è più comodo così, non devo cercarlo. Uno zaino dove c'è roba così a caso. E un telo mare. Abbiamo la catena con cui leghiamo i due caschi. E qua nel bauletto givi da 52 litri abbiamo le due borse che vi ho fatto vedere prese alla Decathlon. A 4,99 euro. Dove ci sono i nostri vestiti. Ma tanto ci stiamo vestendo come i supereroi. Praticamente uguali tutti i giorni. Perché? Perché stiamo testando queste due magliette che avevate visto nelle storie su Instagram. Due magliette magiche in fibra di argento della G+. Vi metterò il link in descrizione. Le stiamo testando. Questo è il quarto giorno. Non si suda, non puzzano. Non si suda neanche. No, no, non è neanche bagnato. 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 Cioè io ho appena fatto 500 chilometri. Non ho un bagnato. Qua nella borsa givi ho il drone, un po' di roba elettronica. Sto viaggiando ancora con le Scorpiorrelli. Permetti la fasciata che i capelli mi sberluscicano e poi questo scende. Ma perché scende? Allora, va bene tutto che bisogna parcheggiare fuori da là. Ma siamo a 3 chilometri e mezzo. 3 chilometri e mezzo. E la navetta è compresa nel prezzo del parcheggio. Peccato che noi abbiamo parcheggiato a umma umma. Quindi adesso dobbiamo capire come funziona con la navetta senza il biglietto. La coda della navetta. Hanno rovinato tutto. Stanno monetizzando su qualsiasi roba. Guarda qua. Questa è la coda per prendere la navetta. Siamo riusciti a salire sulla navetta. Esattamente 2 minuti fa rispetto a prima. Non andiamo nello specifico. Ed eccoci qua. L'abbiamo fatta in meno di 5 minuti. La teca con le mosche. Tra l'altro sono chiuse dentro perché il vetro è chiuso di là e di qua. Amaro ti viene un cagarellino qua. Amaro. Harry Potter tipo. Io entro gratis. Meno 26 anni gratuito. Non perché c'è scritto 26 anni. Perché lei è sopra i 65 anni. L'ingresso. Oh madonna stava cadendo. Allora l'ingresso costa 11 euro. Lei ha fatto la figa. Ha 25 anni. E ne ha 26. Quindi non è potuta entrare. E in più ha acciullato questo telecomando che serve per l'audio guida. E adesso possiamo goderci questa visita completamente diciamo riservata a noi due. La gente normale è già andata a casa. Andiamo Vania. Vania via dal parapetto dai. Guarda come si alza l'acqua. Il Fazer è parcheggiato qua. E prima si poteva parcheggiare qua. Immaginate. Mi puoi scrivere ti voglio sposare sulla sabbia? Lì? Sì dove c'è scritto quel va. Tu immagina quella anziché scrivere ha scritto vaffangulo. Dietro l'orizzonte c'è la Gran Bretagna. Allora la bassa marea c'è la sabbia fino là in fondo. Invece adesso è al cumbine dell'alta marea. Amici italiani incontrati qua. Di Ancona. Vicino Ancona. Tu prendi un pezzo di carta. Scrivi un bigliettino. Con le penne e le matite che ti danno l'oro. E quella ragazza lì prega in continuazione tutto il giorno. Poi viene qui. E tra l'altro è giovanissima quella ragazza. Viene qui dopo che ha pregato per quello che c'è scritto qua. E fa così. Come se tutte le preghiere le fossero benedette. Quindi mi vuoi dire che possiamo leggere le preghiere degli altri? A me farebbe una parolaccia ma purtroppo sono in chiesa. Allora qua correvano sei prigionieri per azionare questa ruota con una corda lì che tirava su i materiali fino quassù. Salsa benedette. Mi fai vedere l'app che usi per tradurre? Lei fa la fotografia. In automatico viene fuori tutto in italiano. Un genio. Grazie Vania. Ma chiedimi se sono felice. Cozze con patate 16 euro. 12 euro il filetto di salmone. Siamo a Monsa Michel. Ma io dico ma perché metterci tutta sta panna nelle cozze? Ma perché? Grazie Vania. Vania sta intortando due persone che abbiamo incontrato a cena per un anello di fidanzamento. I supporter di Vania eccoli. Viva Vania. Viva Francesco. Sto dando la giacca a Vania perché ha freddo. Però è traforata e avrà comunque freddo. Di là il sole e di là la luna. Ragazzi questa è Monsa Michel. Vado che bello. E questo è il tramontino che vi regaliamo di Monsa Michel. Ci vediamo in hotel tra un'ora e mezzo. Ciao ragazzi. Cucù. Buongiorno. Oggi inizia il quinto giorno di vacanza. Allora alla fine ieri ci siamo fermati a Fleur dove abbiamo trovato solo questa hotella a 80-85 euro. Quindi abbiamo dovuto fare un'ora e mezza di notte. C'è proprio buio pesto. Paglianti accesi. Vissaggio tutto e tale. Non passava nessuno. Non c'era traffico. Non c'erano auto. Non c'erano esseri umani. Ma dove cazzo siamo? Però in qualche modo siamo riusciti a venire qua a dormire e passare la notte. On the road verso le spiagge della Normandia ma prima ad un'ora di strada da Fleur vi faccio vedere questo posto incredibile. Venite con me. E questo oxigeno, ce sono le bactérii che le produire. E questo oxigeno, ce sono le bactérii che le produire. Ha anche delle proprietà benefiche. Le nostre... Ci sono 12 gradi. Con una percentuale di umidità molto alta. E questo cos'è? L'omino Michelin. Prezzo del biglietto 11 euro. Lo consigliamo. Molto bello. Siccome il bagno qua si paga allora gentilmente una signora che è andata nel bagno degli uomini si vede che c'era il marito mi ha tenuto la porta aperta Ah, quindi io basta che non la faccio chiudere? Esattamente. Ah, chapeau. Ecco, la prova che è di ferro. Questa è Uta Beach ragazzi. 20.000 americani qua sbarcavano per attaccare i tedeschi. Ci furono solo 194 perdite su 20.000. Immaginate quanto erano forti e comunque quanto avevano organizzato bene l'attacco di sorpresa alle 6 e mezzo del mattino. Ah, però non si può entrare. Ecco, e lo mettiamo qua. Perfetto. Oggi laviamo un po' di biancheria e la strizziamo nel cesso e averitivo in Francia mi danno le cosine di burro capito? Che se le vuoi mettere sul pane cioè questa è la scena finale di questo giorno a domani Buongiorno sesto giorno mettiamo tutto a posto e si parte anche oggi verso Etretat E niente pensavamo che questo fosse un ponte e invece è un traghetto Molto bene ne stiamo imbarcando acqua e il Fazer è qua Siamo ad Etretat questo è Le Jardin e di là inizia tutta la scogliera Ostri che champagne viene giù una valanga Sono stra contenta Vanya è felice adesso Ostri che gamberoncini Allora sappi che io non so come ma c'è un orologio tipo da seguire che ci sono il numero uno e quelle più salate Siamo ad Etretat e adesso facciamo il bagno No, non possiamo perché non abbiamo il costume Nudi? Allora andiamo Come no? Dai, vieni Ho paura Aspetta Vieni, dai Mettiti sulle spalle Sulle palle Sulle palle Che non dobbiamo neanche farci Non ci stessi Cioè, sono perfetti i pasti bellissimi Te la faranno i nostri eroi ad arrivare a Calento Francia, Inghilterra e poi Francia, Inghilterra e poi tornando Belgio Lusenburgo Germania, Italia Ma che Belgio? Booking confirmation Abbiamo appena acquistato il ticket per il treno della Manica Flash Shuttle Speriamo funzionerà Lo vedremo tra 5 secondi Allora, pare che siamo in ritardo Questo M5 M5 Dice appello in corso Forse stanno facendo l'appello Coda al gate Non sono mai stato al gate col puzzle Vania, sei pronta? Molto bene Cibo di sopravvivenza che mi ha fatto compagnia in Africa Siamo ancora in coda dopo due ore Siamo dentro il treno sotto la Manica Stiamo viaggiando alla velocità di mille chilometri all'ora No, in realtà dobbiamo ancora partire Poi andare un po' per l'acqua Che schifo Arriveremo tra mezz'ora però col fatto che c'è il fuso orario guadagniamo un'ora perfetto Sì, è così Non ti fa venire Lele Anzi Ma non si fa la pipì Siamo in un treno Ora vi faremo vedere i bagni Vai Vania Siediti Ciao Iniziamo a scendere sotto il mare In 30 minuti dalla Francia all'Inghilterra Siamo in Inghilterra Voglio andare in Inghilterra Voglio andare in Inghilterra In Inghilterra Voglio andare in Inghilterra Oh, grazie La prima birra in Inghilterra Ma proprio adesso Siamo arrivati all'hotel è stupendo Il problema è che non sappiamo dove lasciare la moto Buongiorno Oggi siamo a Canterbury Ieri abbiamo guidato praticamente dal lato opposto della strada e all'inizio manco ci eravamo tanto ricordati che era dalla parte opposta Vedevamo le auto che ci sfrecciavano dal lato opposto è stato un po' traumatico però ce l'abbiamo fatta Una cosa che abbiamo notato di Canterbury è che siamo arrivati tipo alle 9 meno un quarto e molti pub avevano già chiuso la cucina Com'è possibile? No, abbiamo trovato alla fine un pub che ci ha fatto due nachos e tre birre quindi va bene così sopravvivenza anche in Gran Bretagna La camera di oggi è bellissima è un sottotetto con un queen bed tv divano Lo è Canterbury mi è piaciuto un sacco perché diciamo è proprio magica è veramente da di quell'Inghilterra vecchio stile è veramente caratteristico caratteristico caratteristica si capisce che siamo in Inghilterra Siamo arrivati a Londra abbiamo trovato l'unico posto al mondo che fa pagare il parcheggio alle moto per strada 0,7 eh però devi mettere più 44 madonna stiamo pagando ogni cosa che tocchiamo si paga è una moneta questa? no Buckingham Palace casa della regina sei tutti i giorni la mia regina in diretta da Notting Hill dove hanno girato il celebre film di Notting Hill è la prima cosa che ho trovato di strano in questa macchina cui hanno fatto una multa per divieto di sosta qua c'è il talloncino del divieto di sosta e qua le hanno bloccato la ruota quindi sono molto molto cattivi e severi qua madò il pelo ci fa questo porca miseria ci troviamo da Bike Shed che è un posto tipo un pub dove si parcheggia la moto all'interno si percorre questo corridoio e si parcheggia all'interno la moto motorbike sei la mia vita se ogni tanto questa applicazione non funziona perché se traduco cosa vuol dire barbaganus quello mi dice che significa chi siamo e invece abbiamo scoperto che gigantes bin significa grossi piselli no grossi pagioli quello ce l'hanno sempre nella testa mister bin e mister pagiolo penso sei un mister piselli tutto il giorno che beviamo questo è il terzo gin tonic pink pink cioè la fine del mondo e buonanotte a domani e questa è la vista dal nostro hotel oggi buongiorno ottavo giorno di viaggio stiamo andando sotto il tamigi ulti contromano ultima sprite qua a londra e si riparte un saluto dal big ben guardate quanta gente che c'è assurdo assurdo ci mancano due ore per dover dove ci sono le bianche scogliere il fa zero ne sta bene anche se da un paio di giorni mi si è accesa la spia dell'olio che poi scompare perché probabilmente ha bisogno di un piccolo rabbocco let's go le bianche scogliere di dover siamo in spiaggia a cercare un mezzo per tornare nel continente però l'euro tunnel è sold out ci tocca rimanere qua 7.35 qua le 16 17.35 e sino qua lo dai in sterline quindi o questo o questo questo forse non ce lo facciamo delle 16 moto legata il traghetto è venuto a costare 54 euro una moto e due persone adesso andiamo a vedere un po' se c'è da bere anche qua in questo traghetto ci sono le docce non è che c'è qua ma tu possiamo stare qua cioè è come una cucetta è come una cucetta che non abbiamo pagato il bagno è pulitissimo ragazzi ma tu sei qui? ma tu sei qui? ma tu sei qui? ma tu sei qui? altra birra, altra corsa buongiorno ottavo giorno ottavo perso il conto dice il fazzerone e ci troviamo a vilnev dask paesino al confine con il belgio dove andremo oggi passeremo per il belgio per andare in lussemburgo questo è il solito casino qua in camera oggi ho ricaricato anche completamente l'avviatore elettrico l'abbiamo usato per emergenza alla partenza per salvare un motociclista in panne e devo dire che ha funzionato su amazon tipo 40 o 50 euro vi metto il link in descrizione allora sia io che vania questa notte abbiamo avuto diciamo una notte un po travagliata per dei sogni strani incubi allora vania stamattina ha cercato qualche informazione in più su questo luogo su questa città ha scoperto che nel 1944 c'è stato un eccidio a un gruppo di persone durante la guerra da parte dei tedeschi ai francesi sono state uccise in modo molto atroce diciamo circa 80 90 persone e qua c'è il memoriale in questo paesino paesino tra l'altro anche un po' strano allora qua ci sono oltre alle tombe delle persone del posto c'è anche la parte in cui hanno sepolto queste 80 persone 24 anni 37 33 anni 31 anni primo pranzo in belgio arrosticini qua ciao ciao lui parla pure un pochino di italiano è un petit italiano vediamo come sono questi arrosticini guardiamo come si è bello cosa hai preso i raviolini cinesi ma in belgio ma io qua ho gli arrosticini allora arrosticini prezzo proprio normale come milano 10 arrosticini 10 euro giusto birre 2 euro a birra fantastico siamo proprio nella patria della birra com'è buono buonissimo testimonianza delle 15 47 di domenica vania vuole salire su un castello abbandonato horror e stiamo per entrare in una proprietà privata a dopo forse sono ossa torniamo indietro dopo mezz'ora di cammino si sembra la testa di un animale vedi che stretta testimonianza delle 4 e un quarto siamo qua in bilico non possiamo né scendere né salire quindi desistiamo pericolo scampato una trappist rochefort a rochefort boom siamo arrivati rochefort anche qua buongiorno a tutti oggi ottavo giorno nono giorno di viaggio e ferragosto mi avete iscritto in tanti sulle storie su instagram non stai facendo piovere non stai facendo piovere tac non avete guffata sta piovendo quest'oggi in questo paesino del belgio oggi ultimi due giorni si torna a milano vania sta guardando in anteprima il video per gli abbonati mentre io sto caricando il fazzerone adesso si parte ultime due mete volevo raccontarvi un piccolo aneddoto di ieri sera siamo stati un po' qua in giro a farci una passeggiata abbiamo visto una stazione abbandonata avevamo detto che figato possiamo entrare così così vania a cena ne parla con un tizio e dice ma questa stazione abbandonata è un po' horror e invece era il proprietario era il proprietario della stazione in una risata invece che aiutarmi dovevo fare dovevo solo ridere benissimo il paese un po' horror 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 un po' ovvero una lasagna in germania ed è enorme e io la prima pizza della vacanza concedetemela Anziché ho già messo, possiamo continuare. Già. Ultima notte in modalità zingarata e dopo coprire Pania che è nuda. Buongiorno, undicesimo giorno. Pazzerone qua sotto e si rientra a Milano. Dal San Gottardo si torna a casa. Milano da quella parte. Grazie a tutti.